In realtà, quell'intervento nasce a seguito dell'ottenimento di risorse da parte di un finanziamento della Regione Marche sull'efficientamento energetico di diversi anni fa. Quando ottenemmo quelle risorse, il Comune si attivò per andare a definire quello che doveva essere il progetto di efficientamento energetico, perché le risorse erano volte quelle, e poi si avviò nel 2022, se ricordo bene, il cantiere. Quello che è accaduto è che nella fase di realizzazione dei lavori, rispetto ad un bene storico di particolare valore, di particolare pregio, che ha una storia, oltre che a essere un bene vincolato e tutelato alla sovrintendenza, ci si è accorti di fatto che, oltre all'efficientamento energetico, sarebbe stato opportuno intervenire anche sulle parti strutturali e architettoniche dell'edificio. Questo ha fatto sì che, per dare un esempio, era come avere un'auto d'epoca e decidere di andare a cambiare la vernice, o comunque la Regione aveva dato i soldi per andare a cambiare la vernice, quando in realtà era opportuno, probabilmente prima, andare a togliere i punti di ruggine dell'auto d'epoca, per dare un'immagine di quello che era il cantiere, la necessità rispetto a quell'intervento. Ad oggi, come proprio nelle settimane passate e anche in questi giorni, stiamo insieme agli uffici tecnici cercando di approfondire e capire quanto risorse servono per andare a rendere funzionale il fruibile, l'osservatorio Valerio, andando a realizzare quel tipo di intervento che in qualche modo ci consente di avere un luogo efficiente dal punto di vista energetico, ma anche sicuro, fruibile e utilizzabile. Quindi adesso andremo nelle prossime settimane a definire meglio quello che è un lavoro che si è già iniziato a fare, che però io mi auguro che entro la pausa estiva ci consentirà di avere un quadro degli interventi che saranno necessari, in modo tale poi da avviare di fatto un nuovo cantiere che ci consentirà di avere l'osservatorio Valerio fruibile in tutta la sua valenza storica, scientifica che ha quel bene. Un altro aspetto importante è di come l'osservatorio Valerio andrà a dialogare con l'intervento di risistemazione di tutti gli orti giuli. Proprio in questi giorni è in fase di sottoscrizione la convenzione rispetto ai finanziamenti del bando Iti della Regione Marche, dove come Comune di Pesaro tra gli interventi programmati c'è quello di recupero e di restauro di tutti gli orti giuli, un intervento di circa un milione di euro che ci consentirà di rendere fruibili, visitabili, aperti in maniera sicuramente più decorosa agli orti giuli. L'intervento prevede il recupero di quelle che sono le essenze storiche, la risistemazione di tutto il selciato, di tutto il percorso pedonale che attraversa gli orti, l'apertura anche verso la città e quindi andando a rivedere quel muro che oggi divide la città via Belvedere dal resto degli orti, quindi dare un senso di traspirabilità a una delle parti verdi più belle della città, portarsi gli impianti, gli impianti di illuminazione che lo renderanno sia più sicuro ma al tempo stesso anche, come dicevo, più utilizzabile per piccoli eventi, manifestazioni, concerti o convegni. e al tempo stesso andremo anche a ultimare quel manufatto, il cosiddetto bar, pensato come barcaffetteria.